Salve a tutti e bentornati su Weird Games, io sono Bayreadir e questo è Star Wars Jedi Fallen Order. Abbiamo lasciato Kal in procinto di riprendere il suo viaggio e di ritornare sulla sua nave, la strada potrebbe essere più pericolosa del previsto, ma noi ce ne freghiamo, perché siamo coraggiosi e perché sì, perché se no non andiamo avanti nel gioco e non posso continuare a fare video e niente. Comunque, abbiamo trovato un bel po' di cose, abbiamo visto che l'impero ha un forte interesse in questo posto e abbiamo visto che ci sono dei frizz molto interessanti. Questo è un fucile? Ha un bastone da esploratore. Ciao, Ray. Ok, c'era qualcosa da vedere qui? Non me lo ricordo. Oh sì, che c'era. Aio, aio, eh. Sì. Oh, cacchietto. Ah, andiamo a salvarli. Ci torneremo dopo lì sopra. Camminatore, eh? Oh, che bello. Lo scontro con le TST dei trailer. Qui non c'è nessuno. Salve lei! Come andiamo? Ouch! Non abbastanza in tempo. Vedi uno! Tim! Ottimo! Non ottimo! Devo capire come... respingere quel missile. Non ottimo! Non ottimo! No, 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 no. Non ci siamo. Posso respingere i colpi di Blaster tranquillamente. Ma per quanto riguarda... Il missile che so che glielo posso dirigere addosso... No. Non c'è problema, però. Ok. Andiamo, andiamo, andiamo. Salve lei! Ok. Quelli pure. Glieli posso mandare addosso. Bene. No, questo mi segue comunque. Che diavolo? Aiuto! Tim! Eh, questo è un problema adesso. Ok. Potrò avvicinarmi? Non abbastanza, direi. Vedi uno! Tim! Ok. Ok. Non mi posso avvicinare. Inutile. Che diavolo! Forse questo non è necessario, ma... Couch! Forza, forza, forza! Basta un colpo di Blaster! Esatto! Vieni bello! Infame! Tavoli lì per morire. Oh, no. Mi sono che questa visita non è stata inutile. Ho trovato la tomba di un saggio Zeffo. Usavano la forza, di sicuro. Una civiltà di utilizzatori della forza scomparsa nel nulla. Capisco perché il maestro Cordovan era così ossessionato. Hai scoperto altro? Prima che sparissero, gli Zeffo avevano viaggiato sul pianeta Kashyyyk. Cordova aveva un amico Wookiee di nome Tarpol. Forse possiamo trovarlo. Kashyyyk. Senti, le cose vanno parecchio male laggiù. Già, l'impero ci sta andando giù pesante con quei Wookiee. Prepariamoci allo scontro, allora. Trovo che questo stile di vita ti si addica. Abbattere quel camminatore ti ha reso più sicuro. Allora. Come va? Te la cavi? Intendi con la forza? Sì, con la forza. Hai detto che può sopraffarti. Ancora non mi sono fatto uccidere. Meglio non parlarne. Sì, certo. Ti capisco. Più di quanto tu creda. Perché hai scelto di smettere di usare la forza? Quando l'epurazione iniziò e le nostre truppe di cloni si sono rivoltate, la mia Padawan e io abbiamo preso degli allievi e ci siamo nascosti, ma non è servito a niente. La pattuglia imperiale stava per scoprire la nostra posizione. Così ho cercato di allontanarli dalla mia Padawan, Trilla. era rimasta indietro con gli allievi, ma loro mi hanno presa e mi hanno torturata. volevano sapere degli altri, quanti erano, ma soprattutto volevano sapere di Cordova. Dov'era andato? Ma sei scappata. Sì. Ci fu una rivolta in prigione. Era la mia opportunità e l'ho afferrata al volo. Io non sono più la stessa. Qualcosa dentro di me si è spezzato per sempre. La tua Padawan? Lei è sopravvissuta? No. Per questo non possiamo arrenderci. Non possiamo lasciare che il sacrificio dei nostri cari sia stato inutile. Per favore, ho bisogno di concentrazione. Sicuramente c'è rimasta male di tutto quello che è successo. C'è rimasta molto male. Ok, abbiamo piantato un paio di semini. Caccarone. Adesso li vedremo crescere. Vediamo un po' se lui ci dice qualcosa. Tutto a posto? Sto bene. Mi godo un po' di tranquillità. Bene, allora io direi di tornare di sopra e vedere tutto quello che non abbiamo visto. Eh, è rimasto un bel po' da esplorare. Oh yes. di qua adesso si apre però. Salve. Grazie, battetemi i sorci molto gentili. Ole, è andata. Cos'è questo martellare? Boh. C'era un ponte che potevamo abbassare soltanto con la spinta della forza e i soliti freeze che ci assediano. cacchio. Andiamo, 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 andiamo. Dove sei? Vorrei semplicemente arrivarli di sopra e non ce la farò. mi sono dimenticato, ok? Mi sono dimenticato e quindi salve. Sì, lo so. Ok, anche questo è andato. E io mi devo nascondere meglio perché se no mi prendo le botte. Ce la posso fare? Ce la posso fare? Ok. Difficile, ma ce la posso fare. Lo so che tu sei lì. Vieni, bello. No. Muori, grazie. Qui sarà molto complicato. A meno che non possa... Oh, grazie agli dei. Grazie agli dei. Stavo per fare veramente una finaccia. Abbiamo anche un punto abilità. Hmm, interessante. Non me lo ricordavo. Ok, sì. Direi che cominciamo a sentirne la necessità. Perfetto. Sono bruttissime. Esatto. Sette va bene. Salve. Continua per favore. Grazie. Era lì in fondo, me lo ricordo. Spara, per favore. No? Tu non spara? Tu non spara. Loro spara, però. Grazie. era qui sotto? Penso di sì. Ma non ne sono per nulla sicuro. dobbiamo un'altra occhiata. No, era qui sotto. Sì, ecco là. Scusi, signor... signor Stormtrooper. Scusi? E' là. Ah, santo cielo. Quanto siete stupidi. Forza! Vedrò che posso fare. Sta schivando. Colpite il bersaglio. Spero di ricevere il resto di posti. E' ora di finirla. Addio. Eccolo qua. Aha! Ancora. Ah, così? Minimale che... che ci sia aggrappato da solo. Stavo per fare una cavolata. Oh no, dai! Che odio. Ecco. Niente. No, non ne ho bisogno, grazie. E niente, è andata così. Non ci si può fare nulla. Vediamo se adesso si può tornare indietro. Questo è quello che mi preoccupa. Sì, forse sì. Sì. E va bene. E' andata, è andata. Mi pare che fosse l'unica cosa per cui serviva la spinta della forza. Ma... Ti prego, spara. Grazie. E' sempre un piacere avere a che fare con degli idioti. Ah, va bene. Sì, caliamoci, dai. Ho vinto uno iodas da queste parti. Nemico in avvicinamento! Prendiamolo! Qualcun altro non è andata! Facile. Semplice. Veloce. Olè! Ed è... Andato! Peccato, però. O forse mi sto sbagliando. Non ricordo. Non ricordo minimamente. Qui? Magari? No. No, 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 no. No, non c'era nulla. Almeno non in questa zona. Se c'è qualcos'altro, forse mi verrà in mente. Ma io non posso passare di qua perché devo passare di qua. Giustamente è... Idiota. E di qua? Ah, di qua ci si andava all'inizio. Cioè, cioè. Stai, 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 stai. Ora ricordo. Ok. Ma io in realtà... Più che su Kashyyyk tornerei... Innanzitutto voglio andare a vedere nella mia stanza se posso riparare questo braccio perché... Che diavolo! non posso fare niente senza... No. Personalizza Spadalase. Dannazione. Allora, vediamo questo qui. Eh... No, grazie. Altrimenti abbiamo Dovere e Determinazione è carino. Mi piace. Lo terrò. Dovere e Determinazione 1. 2. 1. Anche questo è molto simpatico. Dorata. Ferro Silvano. Accidenti. Rame. Duracciaio. Eh. Cigarba. Ok. Per me si può partire. Anche se... Dov'è finita Sir? Dove sono entrambi? Allora. Che diavolo? Sono spariti. Va bene. Andiamo a vedere comunque. Dove si va? No, non voglio andare ancora da Tarful. Questo è Kashico. Questo è Bogano. Questo è Zeffo. E questo è Datomer. Andiamo prima su. Ma che cacchio. X. Viaggia. Andiamo su Bogano. Devo tornare a vedere delle cose. Cogano, scusate. Ben ritrovato. Immagino che voi due siate rimasti soli a lungo su quel pianeta. Oh, allora è partito dopo averti attivato. Ricordi l'ultima cosa che ti ha detto Cordova? Buona fortuna, Jedi. Che la forza sia con te. Le memorie per Cal. Nient'altro. Stiamo per uscire dall'iperspazio. Siediti. Impressionante quanto nei videogiochi di Star Wars l'iperspazio sia una cosa inesistente in pratica. Si viaggia con una velocità allucinante. Ok. Si va. Sì, grazie. Lo so. È bello averti qui. C'è una galassia da salvare. Non sarà facile. Ti senti pronto? Bella immagina. Certo. Basta nascondersi su Bracca. Ho visitato molti pianeti della galassia in cerca di... di te. Se non fermiamo l'impero moriremo tutti. Tutti quanti. Sono pronto. Bene. Qui c'era un qualcosa da vedere che si poteva spaccare. Quindi andiamo subito a vederlo. Ciao, piccoletto. Ciao. Haha. Che diavolo. Il nulla cosmico? Sul serio? Ehi. No. Che... Cosa? Cosa? Si è bloccato tutto. Ma porca miseria. Allora? Si è bloccato. Bene. Avevo sentito di qualche bug ma non ne ero sicuro. Vediamo un po' dove ci riporta, va? Purtroppo questa queste sono cose che possono succedere e che dobbiamo farci? Comunque continuiamo. Oh, guardatelo adesso che sta seduto tutto tranquillo lui all'inferno. Avrà salvato? Questa è la domanda. Perché prima di partire io non mi sono riposato. Ha salvato. Eh, quantomeno. Oh, Dio. Sì, vuoi parlare di nuovo? Aha. C'è una galassia da salvare. Sì, lo sappiamo. Non sarà facile. Sì, per una volta parlo sul dialogo, ok? Preferisco parlare sul dialogo. Posso farcela? Certo. Basta nascondersi solo. Oh, ma guardatelo quanto è coraggioso adesso che ha distrutto nei TST. Eh? di te. Se non fermiamo l'impero moriremo tutti. Tutti quanti. Will die all it's a question of time. Sì, lo so che è sbagliato. Lo so. Ah, alleluia. Andiamo, andiamo. Ciao, piccoletto. brutto bastardo che mi fai incastrare nelle rocce. Ti troveremo una casa. Oh, che carino. Ma che cosa? Oh, mio Dio. È lo stesso tipo di sfera di Zeffo. Cosa pensi che faccia? È vero. Perché sei qui? Lì forse dovresti metterti. No. A meno che quello mi sembra un percorso. Ok. Potrebbe essere, potrebbe essere. Assolutamente no. Sì, deve essere perfettamente in linea. Ma non vedere. Cacchietto. Cacchietto. Ce la si può fare. No. Niente da fare. Oh. Ci possono dare differenti tipi di spinta. Questa era una cosa che sarebbe stato carino sapere. Andiamo un po' se. Ok, così. Vai, 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 vai. Cazzo no! Diavolo. C'era quasi. Troppo. Dannazione. Ho capito cosa fare. So cosa fare. Fantastico. Ok. 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 No. Troppo. Sì, diavolo. Fantastico. Come farei senza la mia fonte di stim? Sei davvero straordinario. E uno. Andiamo a cercare un altro segretuccio. Quanto è carino. Il mio piccolo droidatù. Ok, 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 ok. Scusate. Scusate. Permesso. No, eh. Non è ancora il momento. Salviamo al volo. No, non mi interessa. Voglio andare via. Via, via, via. Il braccio connettore. Bella prova. Giustamente noi ci possiamo spostare in questa maniera, no? Giusto. Sei veramente un geniaccio. Sì, c'è un ponte da piegare. Ma non è ancora il momento. Però c'è un enigma che vorrei vedere se è possibile risolvere ora. Controlliamo. Cos'è questo posto? Ecco cos'è. Adesso so cos'è. Cos'è? Perché non caschi? Perché devo imparare a lanciare la spada laser. Ma certo. Poi dove lo dovrò andare a mettere non lo so, ma... Ok. Non è ancora il momento. Presto, ma non ora. Enigma, fra virgolette, risolto. Via, verso la prossima. Si tolghi, no, si tolghi, no. Officina abbandonata, è vero. Mi ero dimenticato di te. No, eh? Eh, uno ci prova. Mica c'è... Sei tornato? No. Ok. Continuiamo ad andare avanti, magari... Ah, ecco. Ouch. Ok. Lissò. Vieni. Vieni, vieni. Ok. Mi ci sono sprecato un po' troppo, forse. No, non mi sembra che da là ci sia qualcosa. Non che io ricordi, almeno. Ricontrollerò. Ma sono sicuro che ci sia qualcosa qua dentro, invece. Esamina. Andiamo a dare un'occhiata e poi ritorniamo alla nave. E poi ci salutiamo, direi. No, temo proprio di no. E pazienza. Me ne ricordavo molti di più. Diavolo. Perciò non ha fatto bene la strada a ritroso. Basta! Basta scivolare! Ok. Di nuovo la nave e via. È qua. Ok. Aha. No. No. Torniamo diretti alla nave. Anche perché voglio andare su datomirra. Olè. Stavo cascando. Ok. 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 Tanto ci sarà un modo per entrare. Dannazione. A meno che. È un'abbandonata. No eh. Eh, uno ci spera. Sì, c'ero andato là. Mi ricordo perfettamente di esserci andato. Ah già. Per tornare indietro adesso bisogna tornare da qua. E stroncare la vita di questi due. Salve lei. Come andiamo? Tutto bene? Olè. Eccoloci qua. Scusate. Vado di fretta. Eh 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 eh. Eh, allora. Addio. La morte mi stava per prendere. Sì, lo so, lo so, lo so. Devo capire anche questo fatto del braccio connettore. Ok. Ci siamo di nuovo. Sono curioso di vedere questo fatto dell'amico. Ma abbiamo messo già parecchia carne al fuoco, quindi. Riposiamo. E direi che ci possiamo vedere la prossima volta. Io cerco di nuovo di inquarrare la faccia di Kull, ma non si può. Quindi, niente. Non mi fa neanche estrarre la spada laser per qualcosa di figo. Rimaniamo con un simpatico... Sì, ya, weirdos. Sì, ya, weirdos. Grazie a tutti.